Il giudice di Pinocchio, con Simona Giannetti, avvocato penalista e radicale con la fissa per lo Stato di diritto, tra giustizia e ingiustizia, libertà e carcere, su quello che dicono e che non dicono nelle aule e sui giornali, su Senza Barcode. Oggi parliamo della notizia che è aggirata sui giornaloni della stampa di regime degli ultimi giorni e in particolare quella che ha riguardato la scarcerazione dei boss, ma poi quali boss ci arriveremo anche a questo argomento. Il tema è duplice, da una parte si parla di carcere e giustizia, in particolar modo di come il nostro giornalismo, quindi l'informazione, utilizza il concetto e il tema del carcere e giustizia anche a fini propagandistici. E quindi il secondo tema, cioè quanto questa informazione sia davvero informazione, non sia invece comunicazione propagandistica e quindi non fondata su quelli che dovrebbero essere i principi fondamentali che stanno alla base dell'articolo 21 della nostra carta e cioè la verità, il fatto che quindi una notizia sia libera, sia vera, sia indipendente e sia completa. Per quanto riguarda la notizia di cui stiamo parlando, si tratta in sostanza di quello che era stato l'argomento della settimana, ma diciamo anche della scorsa e cioè di quello che si è detto relativamente alle scarcerazioni o meglio alle detenzioni domiciliari che sono stati concessi a una serie di detenuti, possiamo chiamarli qualcuno eccellente, ma alla fine sono tre di questi più noti, comunque detenuti per reati particolarmente gravi, quindi di mafia o aggravanti dal reato mafioso, quindi l'aggravante dell'articolo 7. Il tema ha fatto scandalo perché i buoni giornali della stampa di regime hanno comunicato che magistrati di sorveglianza avevano scarcerato 376 persone che si trovavano comunque in detenzione per questo tipo di reati. Cosa hanno detto i giornalioni? È successo? Non hanno detto tutto, non hanno riferito esattamente i termini della questione, ma si sono limitati allo scalpore per cui i magistrati di sorveglianza avrebbero mandato a casa questi detenuti, ma il tema essenziale è un altro. Ci si può allibire che dei magistrati di sorveglianza abbiano applicato la legge e la Costituzione? No, la risposta è no, non ci possiamo allibire, ci dovremmo allibire del contrario, cosa di cui invece non avviene. Non avviene che noi rimaniamo scandalizzati se un detenuto si trova in carcere, malato, in fin di morte e non possa andare a casa, anche perché chiaramente non è più pericoloso se è in fin di morte e quindi a potersi eventualmente curare in attesa che arrivi il momento nefasto, magari anche sperare in una cura diversa, laddove il carcere non può dare queste garanzie. No, non ci stupiamo di questo quando il magistrato nega o rigetta queste istanze, ma ci stupiamo invece del fatto che il magistrato mandi a casa persone in queste condizioni e questo non è un bel segnale. Purtroppo non è un bel segnale perché questo è il segnale di una civiltà che ha perso il senso dello Stato di diritto. Laddove lo Stato di diritto è quello che ci ha insegnato Sciascia, è quello che ci hanno insegnato i nostri padri costituenti. Leonardo Sciascia che è stato grande studioso del fenomeno mafioso, sia come intellettuale, come politico, come scrittore, era il primo ad essere un antimafioso, ma non era un antimafioso dei professionisti dell'antimafia, quello di cui aveva parlato nel suo noto articolo del Corriere del 1987, ma era un antimafioso che chiedeva la lotta alla mafia in senso di Stato di diritto. Quindi, come diceva Sciascia, la mafia non si combatte con la terribilità, ma si combatte con lo Stato di diritto e questo non è altro che poi l'elevatezza, quello che dovrebbero essere le istituzioni. Lo Stato non è un delinquente qualunque che combatte la mafia con i sistemi della mafia, lo Stato è lo Stato e quindi deve essere elevato e come si eleva? Applicando i principi della Carta Costituzionale. E allora cosa succede? Che i magistrati di sorveglianza non hanno fatto altro che applicare i principi della nostra Carta Costituzionale, ma facciamo un passo indietro, dove ci troviamo e perché siamo arrivati a tanto. Cerchiamo di ricostruire un po' la vicenda. Allora è successo che è arrivato il Covid, il governo ha chiesto a tutti noi di stare distanti un metro, di mettere le mascherine e questo però doveva succedere anche in carcere, perché noi sappiamo che la popolazione detenuta ha gli stessi diritti della popolazione libera. Pertanto, nello stesso momento in cui a noi chiedevano questo, anche in carcere venivano diffusi questi circolari in cui si faceva presente che i detenuti avrebbero dovuto tenersi distanti un metro, non indossare le mascherine perché le mascherine sono arrivate mesi dopo e quindi avrebbero dovuto tenere la distanza di un metro. Ovviamente hanno avuto il buon gusto di non scrivere un metro nella cella, ma nella socialità. Un metro nella cella non è possibile perché nelle celle solitamente i detenuti stanno stipati, in quanto sono due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, il tutto in una cella solitamente prevista per due, massimo tre persone. Quindi il punto qual è? Che è successo che nel carcere si sono accorti che il problema del sovraffollamento cozzava un attimo con le prescrizioni del Covid, cioè da una parte c'era la situazione emergenziale che è proclamata appunto dallo Stato e quindi con delibera del 31 di gennaio del 2020 in cui si dava atto che eravamo in uno stato di emergenza e poi da febbraio successivi, quindi a partire da successivamente a marzo, i DPCM che si sono scandagliati nel tempo e che hanno imposto delle misure che poi erano quelle che provenivano dalle istituzioni sanitarie internazionali, ma misure che chiaramente in carcere non potevano essere rispettate, in quanto non è possibile pensare che i detenuti in cella potessero mantenere la distanza di un metro l'uno dall'altro, del resto il tema però diventava delicato allora con una argomentazione e cioè se dal punto di vista delle istituzioni sanitarie internazionali, coloro che dovevano essere più attenti alle prescrizioni e quindi anche dovevano essere addirittura evitati, facciamo il caso per esempio delle attenzioni che ci venivano date nel non incontrare gli anziani, le persone immunodepressi che avevano determinate malattie che sono state anche indicate espressamente in un elenco a partire dai cardiopatici, le persone che avevano problemi polmonari, chi aveva fatto gravi interventi, chi ovviamente era anche malato di tumori, di cancro, quindi un'elencazione tassativa di malattie è stata fatta dagli istituti internazionali di sanità e chiaramente queste malattie erano quelle che avrebbero potuto aggravare la situazione che avrebbe portato nel corpo il virus del Covid fino alla morte, il motivo per cui le stesse attenzioni del governo erano quelle di sollecitare la distanza da queste persone proprio per impedire che la diffusione del virus nei loro riguardi potesse condurle alla morte e la domanda è stata che ne facciamo dei detenuti che in carcere sono gravemente malati in queste condizioni e che non possono di tutta evidenza mantenere la distanza, no che non possono perché le nostre carceri sono sovraffollate, perché in carcere in Italia ci sono oltre 60 mila persone e di queste oltre 60 mila persone i posti che dovrebbero essere disponibili sono 50 mila ma non sono disponibili condizionali d'obbligo perché alcune sezioni in certe carceri sono chiuse e quindi noi abbiamo 60 mila detenuti con meno di 50 mila posti disponibili, molti meno. Ci sono carceri dove sono chiuse intere sezioni, quindi chiaramente il numero dei posti che sulla carta avrebbe un carcere e che vanno a far parte di quei 50 mila non c'è poi nella pratica, motivo per cui i detenuti nelle carceri raggiungono spesso e volentieri anche il doppio del numero previsto dalla capienza regolamentale. E allora torniamo alla domanda che ci siamo fatti, che ce ne facciamo dei detenuti che si trovano in queste condizioni di salute gravi e che non dovrebbero neanche incrociare le altre persone e eventualmente al col rischio di ammalarsi. Apriamo una parentesi per chi è meno avvezzo all'ambiente del carcere perché qualcuno potrebbe dire ma tanto sono tutti detenuti, se sono richiusi lì dentro non si ammalano e no, c'è un dato, il carcere è un ambiente, è un luogo complesso dove ci sono i detenuti, i detenenti, i funzionari, gli ausiliari, gli ausiliari sono gli educatori, sono il parroco, sono i ministri di culto, sono gli infermieri, i medici, i sanitari, tutti coloro che entrano ed escono dal carcere perché chiaramente fanno il servizio della rieducazione e poi c'è il direttore, i funzionari, gli amministrativi e quindi i detenenti, la polizia penitenziaria, ovviamente tutte queste persone non sono detenute e quindi entrano ed escono dal carcere perché chiaramente lì solo ci lavorano, è evidente che nell'entrare e nell'uscire la possibilità di diffondere il virus c'è a maggior ragione se pensiamo che la polizia penitenziaria, le misure di precauzione sono arrivate attorno alla fine di marzo, quindi non certo tanto prima, abbiamo avuto un mese abbondante in cui di certo non era possibile per tutti coloro che facevano comunque dentro e fuori dal carcere riuscire a tutelare non solo se stessi ma anche chi c'era dentro, per esempio sono stati anche vietati i colloqui con i familiari, quindi se noi pensiamo che un diritto fondamentale come quello del colloquio con il familiare che è un diritto in questo caso fondamentale tra virgolette, cioè un diritto essenziale dell'unità familiare ma anche che partecipa alla rieducazione del condannato che è quello di potersi incontrare con gli propri affetti e quindi mandare avanti anche la propria spera affettiva con la famiglia, i figli, la moglie è stato come dire cancellato proprio con un colpo di spugna giustamente per impedire che queste persone dall'esterno potessero portare e diffondere il virus in carcere e di questo ce n'è stato patimento da parte dei detenuti, è evidente che a questo patimento avrebbe dovuto corrispondere una razio e cioè appunto quella di evitare che il virus si diffondesse in carcere, se da tanto patimento non corrisponde un'altrettanta valutazione di importanza del concetto di diffusione del virus e quindi anche di conseguenze, laddove l'intervento dello Stato non sia solo quello di togliere ma anche di dare, allora non saremo in uno Stato di diritto che riconosce appieno il diritto alla salute ma avremmo un riconoscimento discrezionale di questo diritto e noi sappiamo che i diritti fondamentali devono essere applicati sempre e comunque non a discrezionalità o discriminando i casi. Ebbene accade quindi che i detenuti gravemente malati sono tanti, non sono pochi, i detenuti sono anche spesso in età elevata, soprattutto tenendo conto del fatto che ci sono tanti detenuti di lunga pena e quindi che hanno anche età oltre la settantina e tra questi anche detenuti che non solo hanno certi muti all'età ma hanno anche proprio delle vere e gravi malattie. Dobbiamo anche considerare che nelle carceri non ci sono centri clinici, nella generalità delle carceri ci sono dei locali che sono una sorta di infermeria dove si apprestano le prime cure immediate nel caso in cui il detenuto non stia bene e lì se poi il detenuto ha necessità e urgenza di essere invece curato e decentemente bisognerà mandarlo in ospedale con una decisione del medico del carcere. Il punto qual è quindi? Che ogni carcere non ha un vero e proprio centro clinico, non bisogna pensare che nelle carceri ci siano dei luoghi dove i detenuti gravemente malati si trovano come se fossero in un ospedale, vengono curati, hanno tutte le garanzie del caso, le medicine, no perché poi in questo contesto di allarme anche gli ingressi in carcere proprio degli ausiliari sanitari e delle stesse medicine erano contingentati e addirittura i detenuti che chiaramente non potendo fare le terapie che invece sostengono perché per essere detenuti comunque con la loro malattia erano considerati in teoria compatibili col carcere e che comunque facevano delle terapie in ospedale entrando e uscendo da carcere accompagnati, anche in questi casi il diritto alla salute è stato a causa del covid ristretto perché coloro che avrebbero dovuto andare in ospedale o che avrebbero dovuto ricevere delle medicine o delle cure sono stati in questo sacrificati, comunque il loro diritto alla salute è venuto meno anche inteso come diritto alle cure che avrebbero dovuto portare avanti in ragione del fatto che bisognava tutelare gli altri detenuti ed impedire la diffusione del virus e allora cosa succede? L'amministrazione penitenziaria che fa capo al DAP si trova a dover fare i conti con questa situazione, cioè col fatto che ci sono questi detenuti che sono gravemente malati e che se dovessero, come poi è successo nelle carceri, il covid è arrivato, ci sono stati anche dei morti, ma purtroppo sia che la polizia penitenziaria che i detenuti, ovviamente cifre basse per fortuna, ma comunque ci sono stati perché chiaramente come è successo fuori è successo anche dentro, molte persone l'hanno contratto, si sono ammalati, nel carcere di San Vittore hanno aperto anche un centro covid di tutte le carceri lombarde, quindi una sezione è stata proprio dedicata a tutti coloro che sono detenuti affetti da covid e che vengono quindi qui trasferiti a San Vittore. Il punto qual è quindi? Che l'amministrazione penitenziaria facendo i conti con quello che aveva a disposizione, cioè con i ridottissimi posti in pochissimi centri clinici in tutta Italia, dove trasferire i detenuti, anche quelli che si trovavano comunque in regimi più gravi, tipo un 41 bis, piuttosto che un'alta sorveglianza, che comunque avevano commesso reati più gravi, ecco anche per loro si è trovata in condizione di dover pensare che forse non aveva abbastanza spazio per mettere queste persone in condizioni di non essere a rischio morte nel caso avessero contratto il virus dai loro concellini. Ecco, qui noi dobbiamo aprire una parentesi, una domanda che forse non ci si è fatta e cioè il virus, il covid non è arrivato in un contesto dove il diritto alla salute era particolarmente considerato, cioè noi dobbiamo fare i conti con la realtà, noi dobbiamo pensare che il covid ha semplicemente scoperchiato un vaso di Pandora, cioè il diritto alla salute in carcere non è effettivo, no non è effettivo perché il detenuto in carcere gravemente malato non è trattato come un detenuto libero che può andare in una struttura, può andare in un ospedale, può andare in un centro di riabilitazione, può prendere, può farsi visitare dal medico che sceglie chiaramente usando anche tutti i servizi che dà la sanità pubblica, può assumere le medicine che ritiene di voler assumere, no, prima di tutto il detenuto è persona che si trova in custodia, quindi sotto un dovere di custodia dell'amministrazione potenziale la quale è colei che detiene proprio il potere sul corpo anche del detenuto, sulla sua salute, sulla sua igiene, decide quando deve andare a fare la doccia, quando deve essere ricoverato in ospedale, che medicine somministrargli anche quando obbligatoriamente si devono somministrare delle medicine, magari il detenuto non vuole e allora in questi casi prima di tutto bisogna tenere conto di questa situazione di responsabilità dell'amministrazione in termini di dovere di custodia del detenuto come tale e poi c'è una responsabilità che è anche quella della sanità, perché in questa giostra di passaggi di responsabilità nei giornaloni non si è tanto parlato del Ministero della Salute, anzi direi quasi per niente, tuttavia questo è una lacuna, perché è il Ministero della Salute che ha in carico il detenuto e come tale è il Ministero della Salute che deve garantire nel carcere le strutture sanitarie che non ci sono per i detenuti in carcere e quindi in ogni carcere ci dovrebbe essere un centro apprestato per le cure dei detenuti anche più gravi, cosa che non c'è, purtroppo non abbiamo il minimo, figuriamoci il massimo. Quindi si è parlato solo delle responsabilità del DAP che ci sono, ma che sono responsabilità per quanto riguarda la logistica, la sistemazione dei detenuti, il fatto che comunque ci siano ancora detenuti che si trovino in celle, in quattro, in una cella da due, purtroppo ahimè sempre per il fatto che c'è un sovraffollamento, per cui se quelli sono, quelli vanno sistemati dai direttori nelle carceri, ma il Ministero della Sanità che cosa ha fatto per rendere effettiva la salute nelle carceri? Ma direi gran poco, anche perché appunto poi i nodi vengono al pettine, come si suol dire, cioè è bastato l'arrivo del virus perché ci si rendesse conto che da una parte c'erano troppi detenuti in carcere, dall'altra quelli malati non erano comunque in condizione di poter essere posizionati in centri adatti all'interno del carcere per essere curati decentemente e quindi la grave carenza già preesistente è tracollata in una tragedia nel momento in cui è arrivato il virus e quindi il virus non ha fatto altro che far emergere a galla quelli che già erano problemi esistenti e che noi che visitiamo le carceri bene conosciamo. Quindi è successo che la mancanza di centri ha fatto in modo che i detenuti dovessero chiedere ai magistrati di sorveglianza di poter usufruire di certi istituti che loro sono consentiti per il diritto alla salute per lasciare il carcere in modo da poter evitare di contrarre il virus e anche evitare quindi il pericolo di morte. È accaduto che, e questo si è saputo evidentemente come è giusto che fosse, perché è da dire che al DAP sono state fatte tante cose che si potevano essere recriminate, ma forse l'unica che non poteva essere recriminata è stata invece quella che da questo governo è stata utilizzata come escamotage per far dimettere l'allora capo Basentini e cioè cosa è successo? Che una nota di Basentini, allora capo del DAP oggi non più, fu indirizzata a tutti i direttori con l'invito a segnalare quali fossero i detenuti malati al punto tale da non poter essere considerati compatibili con il carcere. Ecco, qui facciamo una discussione bellissima sul concetto di compatibilità, ovvero un detenuto è compatibile col carcere anche se malato, perché non è che tutti i detenuti malati vanno a casa, no, i detenuti in carcere ce ne sono tanti di malati, ma sono compatibili quando la loro malattia può essere gestita in carcere con la struttura ovviamente minimale, ma con la struttura carceraria e quindi vengono curati anche da detenuti. Laddove la malattia diventa tale per cui non può più essere curata in carcere, ma addirittura la carcerazione potrebbe diventare motivo di pregiudizio per la loro salute, facciamo ad esempio i casi di malattie molto gravi in cui devono essere apprestate delle cure particolari, altrimenti si potrebbe incorrere nella morte, oppure addirittura il caso in cui ci sono malattie che prevedono una gene elevatissima per cui anche solo un contatto con qualcosa che non è di particolarmente igienizzato potrebbe comportare la morte del detenuto, in questi casi non si tratta più di compatibilità, ma subentra la incompatibilità con il carcere che viene certificata dal medico del carcere, il quale ovviamente con questa certificazione consente al magistrato di sorveglianza dietro richiesta del detenuto o anche dal magistrato d'ufficio di poter andare in detenzione miciliare a casa o anche in ospedale in una struttura per curarsi. A questo punto cosa succede? Che con l'arrivo del Covid noi possiamo parlare tranquillamente di una incompatibilità relativa, cioè se quella assoluta è quella della legge che dice appunto che se uno è particolarmente malato, tale per cui non può essere curato in carcere e deve andare a casa, noi possiamo dire che l'incompatibilità relativa è quella della salute che viene a mancare nel momento in cui con il virus che venga diffuso in carcere il detenuto rischia di morire proprio in ragione del suo stato di salute aggravato. E' questo il motivo per cui è partita questa circolare. La circolare è stata recepita dai direttori i quali ben inconsci della situazione delle carceri che rispettivamente tutti dirigono, hanno valutato di direttamente indirizzare per il tramite dei loro detenuti stessi, delle istanze da parte di quelle che il medico, perché altrimenti non avrebbero potuto indirizzare queste istanze, ma tutti coloro che erano già stati preventivamente individuati dal direttore, ovviamente per il tramite del medico come soggetti a rischio, hanno inoltrato le istanze ai magistrati di sorveglianza, chiaramente qualcuno tramite anche il proprio difensore. E qui il diritto ha fatto soccorso, il detenuto si trova nelle condizioni di incompatibilità relativa col carcere, manda all'istanza, il magistrato legge cosa dice il medico, legge cosa dicono le istituzioni sanitarie, legge cosa dicono i DPCM e gli dice, qui io o lascio il detenuto in carcere e se prende il virus e muore, io ho una responsabilità perché l'ho lasciato dentro e non gli ho impedito di prendere il virus e di morire, oppure faccio quello che mi dice la Costituzione. Cosa dice la Costituzione? Articolo 27 e articolo 32. Sicuramente la detenzione non deve essere inumana, non deve essere un trattamento contro la dignità umana, chiaramente tenendo trattenuto in carcere un individuo malato con il rischio di contrarre il virus e di morire, è ovvio che si può tranquillamente parlare di trattamento inumano e così anche l'articolo 32 è invece quello che riguarda il diritto alla salute, sempre la Costituzione, che prevede che ogni cittadino libero o detenuto abbia diritto di aspirare alla propria salute anche in termini di vita e di cure. Ecco, i magistrati di sorveglianza hanno letto queste istanze, ben consci degli articoli richiamati ora della Costituzione, hanno concesso la detenzione domiciliare per salute a questi detenuti, ma nulla di più di quello che è previsto dalla legge. Perché dico questo? Perché il nostro codice penale prevede l'articolo 147 che è quello che prevede il differimento della pena e quindi il differimento della pena anche per il caso in cui il detenuto sia gravemente malato, quindi se il detenuto è gravemente malato può ottenere il differimento dell'esecuzione, cosa vuol dire il soldone? Che se è detenuto ed è gravemente malato, se non è una persona particolarmente pericolosa, il giudice soprattutto questo quando si trova in una condizione di salute per cui deve fare parecchi spostamenti tra gli ospedali, centri clinici, le cure, differisce la pena, quindi lo scarcera, lo manda libero per un determinato periodo di tempo, attenzione in un determinato periodo di tempo, quindi è un provvedimento a scadenza che può essere di quattro mesi, di sei mesi, di otto mesi e con l'intento di rivedersi dopo questo tempo per rivalutare la situazione della sua salute e quindi vedere che non sia cambiate le cose al punto da revocare questo differimento che scade e quindi il differimento termina oppure da prorogarlo e quindi nel caso in cui il detenuto si trovi ancora nelle medesime condizioni e qui chiaramente se non è cambiato niente non cambierà neanche il provvedimento che viene prorogato. Accanto al differimento esiste la misura della detenzione domiciliare che il magistrato di sorveglianza può concedere in sostituzione del differimento nel momento in cui ritiene che il differimento non sia adeguato al caso concreto perché ci siano anche le esigenze di sicurezza sociale e questa è la famosa bilancia di cui ho già parlato altre volte quando si parla di diritti costituzionali si parla di bilancia perché diritti costituzionali sono tanti nelle situazioni, non è che in una situazione di vita normale esiste solo un diritto costituzionale, ce ne sono tanti quindi bisogna contemperarli, come fare a contemperarli? Si mettono sulla bilancia, quello che pesa di più vince, soccombe quello che pesa di meno. È evidente che se c'è una persona di 80 anni che ha una fine pena dopo 6 mesi e questo è uno dei 3 casi del 41 bis che ha un grave tumore con rischio morte non si può tenere in carcere ma si può mandare in detenzione domiciliare perché qui tra la sicurezza sociale di una persona ultra 80 anni col tumore e il suo diritto alla salute evidentemente prevale il suo diritto alla salute e quindi viene mandato in detenzione domiciliare non in differimento. Del resto la detenzione domiciliare per queste persone è stata scelta proprio per i reati che hanno, che sono comunque reati particolarmente gravi che non hanno giustificato un differimento pena. Quindi tutte queste scarcerazioni non sono scarcerazioni, sono detenzioni domiciliari a tempo che sono state concesse per il tempo del Covid con una scadenza in occasione della quale il magistrato di sorveglianza se siano venute meno le condizioni di pericolo del Covid rimanderà in carcere questi detenuti a continuare la loro detenzione. E allora veniamo a questo punto al cos'è accaduto dopo, cosa accade dopo sempre per la propagandistica comunicazione dei nostri giornali. Ebbene succede che a un certo punto queste scarcerazioni vengono messe sul giornale come se fossero la notizia del secolo, ma non è una notizia del secolo, è che forse i magistrati di sorveglianza avevano iniziato ad applicare il diritto alla salute, cosa che prima del Covid non era tanto calcolata, ma diciamo che bisognava un po' mettersi in ginocchio per ottenere procedi, improvvedimenti di questo tipo. Ne è accaduto che sono insorti i paladini dell'antimafia. Ebbene, precisando che qui chi parla ovviamente non può che essere dalla parte di coloro che combattono la mafia, ma non stiamo parlando di un'antimafia intesa come tutti coloro che lavorano per combattere la mafia, stiamo parlando di un'antimafia che è quella del modello sciasciano dei professionisti dell'antimafia. Quindi diciamo che non posso mettermi ora a raccontare l'articolo di Sciascia del 1987 su Corriere, ma per chi avesse intenzione di andarselo a leggere quello è il riferimento di questa antimafia su cui aveva puntato già allora il dito il buon Leonardo Sciascia. E a questo punto questa, diciamo, quest'aria che tira di un governo che tra l'altro, quindi un ministro di questo governo che ha puntato particolarmente il consenso elettorale su questa ondata di un'antimafia, anche della magistratura antimafia che è sempre stata un riferimento, ecco a questo punto queste scarcerazioni sui giornali sono diventate l'oggetto di attenzione di un governo che si è sentito in dovere di giustificarsi nei confronti di questi magistrati pochi dell'antimafia che hanno scagliato i loro dardi contro i magistrati di sorveglianza. Addirittura qualcuno, non solo magistrati in questo caso, ma anche degli opinionisti, anche intellettuali, si sono permessi di valutare come eccessivamente buonario l'atteggiamento di questi magistrati. Mi spiace dirlo, ma non è un atteggiamento buonario, è la Costituzione e siccome lo Stato non è un delinquente comune, lo Stato applica la Costituzione, i magistrati di sorveglianza hanno applicato la Costituzione. Il brutto è che quelle frasi sono state dette da persone che sono anche delle voci autorevoli e che quindi vengono ascoltate anche da persone che magari della materia non se ne intendono. Eccola dove l'informazione diventa comunicazione e quindi diventa propaganda governativa. E allora cosa succede? Il governo si sente preso di mira da questi magistrati dell'antimafia che si scagliano contro i magistrati di sorveglianza perché i guai hanno scarcerato dei malati ultra settantenni che dovevano stare in carcere ad aspettare di contrarre il virus. E allora che fa? Il nostro ministro si scaglia contro il capo del DAP, il quale ovviamente diventa, chiamiamolo, l'agnello sacrificale. È da dire che il capo del DAP non è mai stato particolarmente brillante nella gestione di queste carceri perché comunque è andato sull'onda di quello che era già un po' successo anche prima, cioè le carceri sono sovraffollate, non c'è una situazione di particolare degrado, il ministro della salute idem non ci ha messo del suo come abbiamo detto prima, quindi nulla era stato fatto comunque di particolarmente lodevole, ma la cosa che è emblematica è che il capo del DAP è caduto proprio nell'unico momento in cui ha fatto, a parere di chi sta parlando, il suo dovere e cioè ha detto signori direttori ditemi chi è malato perché il punto è in qualche modo questo, lo dico io, bisognerà occuparsene. Cosa succede? Che il dardo che viene comunque tratto è quello di un magistrato che aveva chiesto al DAP di far presente se ci fossero dei posti in un centro clinico, ma il DAP non ha risposto. Ebbene, a dire vero, chi parla ora non può far altro che dire che cosa avrebbe dovuto rispondere? Il magistrato di sorveglianza ha chiesto, l'amministrazione non ha risposto e il magistrato ha deciso, l'amministrazione non ha risposto forse perché non sapeva cosa rispondere, ma certamente avrebbe anche dovuto scrivere non sappiamo dove metterlo perché non abbiamo le strutture, sarebbe stato un grave mea culpa e probabilmente ha scelto di non rispondere, vogliamo augurarci che non abbia dimenticato di non rispondere, ma questo non lo possiamo pensare. È evidente però che il punto è un altro, cioè in questo caso dei detenuti sono occupati, dei detenuti malati, perché il DAP ha chiesto ai direttori di fare una segnalazione su di loro e i magistrati hanno colto la segnalazione e hanno provveduto, quindi noi ci stiamo scandalizzando dell'unico momento in cui il DAP ha fatto il suo dovere nei confronti dei detenuti malati. Niente, il DAP cade, il capo del DAP cade e quindi Basentini diventa l'agnello sacrificale, sappiamo che poi nelle more dell'arrivo del nuovo capo Petreria è stato nominato anche il vice direttore Tartaglia, tra parentesi possiamo dire che Tartaglia è anche un discepolo, possiamo chiamare così, del consigliere del CSM di Matteo che di lì a poco in quei giorni si era anche abbattuto contro il ministro Buonafede per avergli rimbangato delle vecchie, almeno di due anni, questioni che riguardavano il posto di capo del DAP che gli era stato ventilato dal ministro Buonafede e che poi per ragioni più che altro politiche, ma certamente non questionabili, non era stato poi più realizzato. Il punto poi prosegue perché nelle more, quindi quando cade Basentini, arriva il vice capo del DAP, il governo però qualcosa deve fare perché anche sotto il fuoco incrociato che gli arriva da consigliere CSM di Matteo in diretta televisiva da Giletti, il buon governo si trova nella condizione di dover dimostrare di essere ancora antimacchioso e quindi di essere ancora, non di quell'antimafia di cui abbiamo detto, di cui siamo tutti sostenitori, ma di quell'antimafia che è quella che Sciascia ha detto essere quella che gestisce la lotta con la terribilità, quindi di essere ancora antimafioso al punto da snocciolare un bel paio di decreti con un decretificio, se possiamo chiamarlo così e quindi negli ultimi giorni i magistrati di sorveglianza si sono visti arrivare due nuovi provvedimenti governativi da parte dell'esecutivo che ha previsto che i registrati debbano con un decreto chiedere e attendere fino a 15 giorni, a seconda dei casi un giorno, 15 giorni a seconda dei permessi delle misure alternative che decidono, il parere della Procura nazionale antimafia, della Direzione nazionale antimafia per quanto riguarda il caso in cui si occupassero di detenuti per reati di mafia, questo è un decreto che chiaramente lascia un po' di amare in bocca, ma per un motivo perché ha uno spiccato senso propagandistico, perché laddove il parere non è vincolante il magistrato di sorveglianza dovrà unicamente attendere la scadenza del termine di questo parere e nel caso gli arrivassi potrebbe anche disattenderlo, quindi certamente il magistrato di sorveglianza continua ad essere libero nella sua decisione, potremmo dire tanquanonestet per parlare in termini avvocateschi, ma non è proprio così perché il profilo giuridico è sicuramente inesistente, nel senso che appunto il parere non è vincolante, ma c'è un profilo che è quello invece di un taglio più possiamo dire politico, per cui il magistrato di sorveglianza viene messo come dire sotto commissariamento psicologico dal, potremmo pensare in questi termini, da un inquirente per quanto riguarda un'eventuale pressione che gli può derivare in questo parere, quindi se primo magistrato di sorveglianza come ogni magistrato secondo quelli che sono i poteri discrezionali, poteri discrezionali che sono attribuiti alla magistratura nell'esercizio della sua funzione che poi è il terzo potere dello Stato indipendente e autonomo, questa forzatura certamente non può che essere rilevata anche laddove comunque resta evidente che si tratti di una sorta di commissariamento psicologico non certo effettivo e quindi pura propaganda rimane, così lo stesso taglio lo rinveniamo nel secondo decreto che è l'ultimo in attesa di essere definito, che è quello che propone che i magistrati di sorveglianza siano costretti a rivedere entro un determinato termine che è fissato nel decreto che dovrebbe essere dopo 15 giorni la remissione del provvedimento di detenzione domiciliare, la loro decisione. Ebbene anche qui, a parte il fatto che chi ha fatto questo provvedimento probabilmente non ha mai vargato la soglia di un tribunale di sorveglianza, non sa che i tribunali di sorveglianza in Italia sono talmente operati di lavoro che le liberazioni anticipate le fanno solo all'ultimo minuto, quindi ormai emettono liberazioni anticipate sulla scorta del parametro del fatto che siano liberatorie, quindi arrivano tutte al momento in cui devi essere scarcerato, perché sono talmente tanti i detenuti rispetto al numero dei magistrati e rispetto al carico di lavoro che arriva ai tribunali di sorveglianza, che pensare che un magistrato che abbia impiegato un mese per fare una valutazione di questo tipo, di questa istanza che per i non addetti ai lavori è un'istanza che viene fatta il più delle volte in termini provvisori e quindi messa sul tavolo del magistrato, il quale da solo si assume la responsabilità di un'applicazione di una misura o se nel caso non ritenga di volerlo fare da solo, ma di voler rimettere la decisione al collegio, rigetta la provvisorietà e manda la decisione al tribunale di sorveglianza che quindi decide eventualmente anche dopo un mese, quindi noi abbiamo un arco temporale di decisione di una simile istanza di un mese con accertamenti, istruttori che poi dovrebbe essere rivisto dopo 15 giorni, già questo fa abbastanza il paio con quello che è poi l'inutilità di un simile decreto, laddove pensiamo che il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza manda in detenzione domiciliare detenuto è un provvedimento a tempo, come abbiamo detto prima e quindi ha una sua scadenza, scadenza che il magistrato decide in concreto per ogni situazione, caso per caso, in base al tipo di malattia, alla durata della pandemia, al luogo, alla regione, a quanto quel carcere può essere sottoposto ad attenzione, immaginiamo che certamente le carceri della Lombardia, del Veneto, delle regioni più colpite non sono quelle delle regioni meno colpite e quindi è evidente che la valutazione caso per caso può essere fatta solo da un magistrato che alla scadenza del provvedimento potrà decidere se prorogarlo oppure no, quindi quella rivalutazione imposta è un'altra delle uscite propagandistiche di un governo che sì, in pratica non serve a nulla dal punto di vista giuridico, ma che dal punto di vista del sospetto che va ad insinuare sulla professionalità e sulla serietà che deve essere riconosciuta ai magistrati di sorveglianza che si assumono il carico della vita di una persona che ormai è stata condannata e la cui condotta processuale è stata decisa, ma che si assumono il carico della loro vita come persone, come individui, ecco, forse questo sospetto poteva anche essere evitato dal governo, anche solo nel rispetto delle istituzioni e quindi della separazione dei poteri tra l'esecutivo e il giudiziario. Il giudice di Pinocchio, con Simona Giannetti, avvocato penalista e radicale con la fissa per lo Stato di diritto, tra giustizia e ingiustizia, libertà e carcere, su quello che dicono e che non dicono nelle aule e sui giornali, su Senza Barcode.